Musica Nell'ambito del trasporto pubblico locale che la provincia coordina amministrativamente operano autolinee sulle linee extraurbane con 220 pullman. La provincia si è impegnata per ottenere un turnover del parco automezzi e oggi abbiamo il dato che il 60% circa ha ausili per il trasporto di persone con disabilità motoria e il 25% di questi mezzi, di questi 220 mezzi, sono invece già dotati di una piattaforma ribassata. Noi stiamo operando in grande sinergia con le autolinee perché ci sia grande sensibilità nei confronti dei portatori di disabilità. Come si può fare? Certo noi non possiamo come provincia coordinare completamente le realtà sul territorio per sapere dove passano questi mezzi e a che ora. Possiamo soltanto dire che abbiamo già operato in tal senso creando una sinergia tra le autoline e le persone con disabilità perché il problema sia risolto. Per cui la signora se vuole, se ha problemi e tutti quelli che hanno problemi di deambulazione devono utilizzare i mezzi per lavoro, per studio o anche per ragioni sanitarie, qualora non incontri il pullman giusto, un pullman nel quale si può accedere, può rivolgersi a noi, metteremo in contatto con le autoline e risolveremo il problema.